Hello everybody, è Steffi Serra, go the live in cielo e in terra e vedete mentre i gabbiani se la ridono no, eccola qua, li vedete? si vedono, quindi se la ridono tutta qui davanti alle scale dove si gettarono letteralmente decine e decine e se la ridono i gabbiani, vedete? se la ridono, ridono anche i galli e vedete lì, li vedete? si vedono, vero? si vedono, si vedono sentite un po' che spettacolo di risate da gabbiano e quindi noi portiamo avanti il progetto nazional europeo americano e qui nelle piazze come fanno gli altri avete visto nella mia pagina political election lo scandaloso spettacolo vomitevole che accoglie i turisti davanti alla stazione con il porto e l'ufficio della giunta comunale sindaco aspetto i commenti e noi vedete qua è uno slogan ci stanno filmando eccola ci sta filmando abbiamo cominciato la campagna elettorale e vedete è un pienone è un pienone di gente terrorizzata vedete? i galli in cielo ridono è un pienone di gente terrorizzata cioè che scappa appena mi vede però c'è stato il record c'è stato il record ho parlato due minuti con tre ragazze record tre ragazze quindi c'era una massone retiliana che parlava e le altre due terrorizzate e le altre due terrorizzate la massone che può parlare e ovviamente questa situazione insostenibile che veramente io con prolifere bambini che ripeto tutti i giorni prova ad avvicinarmi inutilmente perché tanto vengono aggredite dai terroristi ormai ho consigliato una tattica per vincere la coppa del terrorismo e quindi mettili anche dentro i tombini falli nascondere anche dentro i tombini i terroristi e la coppa del terrorismo è aggiudicata ma sì noi comunque mantenendo le promessive in piazza ci siamo vota serra grazie a tutti